Mazzette in cambio del superamento dei concorsi pubblici per l'insegnamento ai domiciliari due docenti campane. Il provvedimento è stato eseguito dal commissariato di Pompei ed emesso dal GIP di Napoli Nord. Le due donne insegnanti in un istituto scolastico e una di esse membro della commissione esaminatrice sono ritenute responsabili di diversi episodi di induzione in debita. Avrebbero chiesto dai 20 ai 40 mila euro per il superamento dei concorsi, tra questi anche il concorsone della primavera 2020. Le indagini sono partite nel gennaio scorso dopo la segnalazione di presunte irregolarità da parte del presidente di un altro membro della commissione esaminatrice a supporto, testimonianze e intercettazioni. Le indagate hanno organizzato anche corsi per la preparazione ai concorsi. L'ipotesi degli inquirenti anche anche in questo caso abbiano chiesto ai partecipanti denaro per superarli. Intanto è bufera all'Università di Salerno per lo scandalo alla facoltà di medicina che ha portato la finanza ad arrestare due dipendenti infedeli, Carmine Scioffi, 53enne del comune irpino di Contrada e il salernitano Carmine Leo. Avrebbero forzato i sistemi, fatto risultare iscritti alla facoltà studenti che non avevano superato le prove, registrato esami mai sostenuti, concesso l'accesso a borse di studio o fatto risultare pagamenti delle tasse. Mai avvenuti, 42 gli indagati tra studenti e familiari sarebbero almeno 34 le carriere artefatte.